Ciao a tutti, ci troviamo oggi al mercato di Livorno, ragazzi, bellissimo questo mercato, va visto, va visitato e sono in un punto speciale, un punto dove c'è un olio particolare e questi due bei signori che vi spiegano come si assaggia l'olio e che olio ci hanno. All'Oil Bar con Alessandro e Riccardo. Siamo all'interno del mercato dell'Evetto Bar e appunto abbiamo fatto insieme a Alessandro il primo Oil Bar d'Italia, una delle migliori olioteche. Abbiamo in gamma circa 60 tipi di olio diversi, provenienti da tutte le regioni italiane. Alessandro è il patron dell'Oil Bar. Aggiungere anche qualche olio di diversa nazionalità. Tra poco dovrebbero arrivare alcuni oli spagnoli, altri oli greci, abbiamo la Croazia, quindi abbiamo un panorama molto ampio per quanto riguarda il comparto olivicolo mondiale. Tutti da olive verdi e li facciamo tutti assaggiare per chi ne avesse la volontà di farlo, per capire come si assaggia l'olio di qualità e bicchierata tra amici. Vai, allora la prossima volta quando venite a Livorno, Mercato Centrale, Oil Bar con questi due ragazzoni. Ciao! 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 Ciao!